Sono nato nelle profonde tenebre dell'ignoranza. Il mio maestro spirituale ha aperto i miei occhi, ottenebrati da questa oscurità, utilizzando la torcia luminosa della conoscenza trascendentare. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Om Ajnati Mirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurum Militam Yena Tasmahi Shri Gaurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mathe Bhakti Vedanta Swamihi Tinamine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Nervi Sresa Sunnyavadi Pashatyade Shatarine Vanchakalpatarubhyasca Kripasindubhyayivacca Pathidhanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namunamaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nithyananda Jaya Dveta Ghadadhara Shri Vasa Adi Ghura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, a nome del nostro maestro spirituale fondatore Acharya, ovvero Sua Divina Grazia, Abhay Charanarabinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, vi voglio dare il benvenuto, benvenuti, benvenute, do il benvenuto a coloro che sono in presenza e anche a tutti coloro che ascolteranno in differita. Intanto vedo che abbiamo Michelle, Bhaktin Daniela, Mauri e Oriano, benvenuti, Hare Krishna. Allora, oggi siamo arrivati alla 49esima puntata di questa serie Narrazioni Vediche. Il titolo della puntata di oggi è Ai quattro Kumara viene impedito l'accesso a Vaikunt. Benvenuto Pietro, Hare Krishna, grazie della tua presenza. Allora, come possiamo cominciare? Non abbiamo niente in sospeso, quindi potremmo partire già con la lettura, ma in realtà, a pensarci bene, qualcosa in sospeso c'è. Chi era presente la volta scorsa ricorderà che abbiamo cercato di comprendere quel verso del terzo canto del quindicesimo capitolo, verso se non sbaglio quindici, a cui sembrava esserci un errore di traduzione. Hare Krishna, Eros, benvenuto. Allora, nel frattempo io mi sono documentato, mi sono confrontato con altri devoti a cui io faccio riferimento, perché è importante, certo, avere un maestro spirituale, ma nella maggior parte dei casi il maestro spirituale è abbastanza, almeno nel mio caso, irraggiungibile, quindi mi è utile e anche doveroso avere dei riferimenti un po' più vicini. Hare Krishna, Francesco, Mariano, grazie per essere in diretta. Allora, cosa succede? Ve lo spiego in due parole. Mi sembrava di aver visto nella traduzione al verso quindicesimo che fra un po' leggeremo un errore di trascrizione. E in effetti, confrontandomi con i miei riferimenti e andando a leggere la versione originale, perché noi abbiamo dei libri tradotti in italiano dalla lingua inglese, e Shida Prabhupada nella versione originale, in quella inglese, questo non esiste. Cioè, nel senso, l'avevamo capito dal commento e anche dal fatto che nella parola per parola non ci fosse questo termine e abbiamo avuto la conferma di questo. Quindi, non lo dico con orgoglio, perché ero pronto anche a recitare la mia colpa, ho avuto una buona intuizione e in realtà è proprio errato, è errata la traduzione nella lingua italiana. Adesso, per capire meglio, a chi magari non era presente, rileggo il verso, che è il quindicesimo, dove dice là sui pianeti Iva Ikunta regna il Signore Supremo, la persona originale, che non è possibile conoscere attraverso le scritture vediche. Benvenuta anche a te Angela, Hare Krishna, i miei omaggi. Quindi, questo non è un'aggiunta. Magari segnatevelo se dovreste ritrovare questo verso e ormai abbiamo la conferma che è stata un'aggiunta, una trascrizione errata, una tradizione errata. Hare Krishna, anche a te Giovanni. Quindi, noi dobbiamo leggere questo verso e ripeto, il quindicesimo del terzo, del quindicesimo capitolo del terzo canto dello Shimad Bhagatam, dove si dice che là sui pianeti Iva Ikunta regna il Signore Supremo, la persona originale che è possibile conoscere attraverso le scritture vediche. Saluto anche Giovanni, un altro Giovanni che non è il primo e anche Luciano, benvenuti, Hare Krishna. Allora, certo questo non significa che noi possiamo conoscere Dio attraverso le scritture vediche. C'è qui il senso è, infatti la parola che viene utilizzata nel contesto originale sanscrito ve la dico è Shabda Gochara, Shabda il suono, quindi Shabda è la conoscenza che noi possiamo avere attraverso il suono. In altre parole, è vero che Dio non può essere conosciuto solo attraverso le scritture rivelate. Hare Krishna, mina, benvenuta. Ma è anche vero che per avere una conoscenza, seppur intellettiva, seppur facente parte della conoscenza acquisita, possiamo conoscere Dio solo attraverso le scritture. Questo è il senso di questo verso, che Dio può essere conosciuto attraverso le scritture rivelate. Ma si parla di una conoscenza che è una conoscenza acquisita, non si parla della conoscenza reale di Dio e della relazione che ci unisce a Lui, quella è un'altra cosa. In questo caso si parla di questo tipo di conoscenza, in altri casi invece si dice che non è possibile conoscere Dio solo attraverso le scritture. È chiaro che le scritture danno solo una descrizione che non è poco, ci dobbiamo accontentare, ma la vera conoscenza di Dio è quella della relazione che ci unisce a Lui e nel frattempo ci ha raggiunto anche Claudia. Fatta questa dovuta considerazione per quello che riguarda ciò di cui abbiamo parlato la volta scorsa, ora continuiamo con la lettura. naturalmente prima un piccolo riassunto che può essere sempre utile. Siamo partiti con la storia di questa coppia lui Cassiapa Muni lei Diti che in quanto donna desiderosa di avere un figlio chiede a suo marito di avere un rapporto intimo, un rapporto sessuale. il marito non gli dice di no ma gli dice semplicemente che non era il momento giusto. Abbiamo parlato di cosa sono i momenti giusti e che tipo di coscienza si dovrebbe avere nel momento in cui si procrea ma non ritorniamo su quei passi. Chi vuole può ascoltarsi gli episodi precedenti. Dunque non è il momento giusto aspetta un attimo ma lei era così diciamo il suo desiderio era diventato così estremo che non voleva aspettare quindi come spiega il verso in questione lo tira per le vesti e hanno questa relazione. Poi si pente poi si pente di non aver ascoltato il marito e chiede scusa anche a Shiva. Perché il marito gli aveva detto di no? Innanzitutto perché stava svolgendo delle pratiche spirituali meditative proprio di adorazione verso Shiva e per questo che Shiva doveva risultare offeso da questo gesto della moglie di Cassiapa da questo gesto di Diti ma era anche un momento inopportuno perché sarebbe nata da quest'unione una prole indesiderata. Diti chiede scusa ma ormai il dado è tratto le cose sono andate così ci sarà un motivo e vedremo piano piano nel corso della narrazione qual è questo motivo. Quindi Diti è incinta ma sapendo che le persone che ha in grembo che poi vedremo sono due sono due gemelli diciamo hanno come futuro un disastro per l'intera popolazione dell'universo perché saranno persone negative cattive criminali uccideranno stupreranno faranno tutte le cose peggiori che si possono fare Diti decide di tenere il seme di suo marito nel suo grembo quindi di non partorire per ben cento anni. Cosa succede? Che il fatto che Diti trattenga il seme del marito porta uno scompenso nell'universo sembra che le oscurità cominciano a diventare più preponderanti della luce a quel punto vedendo questo e siamo ancora nel riassunto ideva gli esseri celesti coloro che governano e amministrano l'universo si rivolgano a Brahmà e gli chiedono il motivo di questa oscurità e Brahmà nel spiegargli il motivo quindi che ha portato a questa condizione parla del mondo spirituale infatti il titolo del capitolo che stiamo leggendo è proprio descrizione del regno di Dio ora ritorneremo al quindicesimo verso quello che è stato contestato con questa negazione che non c'era e andiamo avanti con la lettura poi se a voi viene in mente qualche considerazione da fare o qualche domanda abbiamo lasciato a disposizione allora rileggiamo il verso 15 con la traduzione corretta la sui pianeti vaicunta regna il signore supremo la persona originale che è possibile conoscere attraverso le scritture vediche in lui tutto e pura virtù senza la minima traccia di passione o di ignoranza è lui che assicura il progresso dei suoi devoti sulla via della religione la si estendono molte foreste propizie gli alberi sono alberi dei desideri e in ogni stagione sono carichi di fiori e frutti perché sui pianeti vaicunta tutto è spirituale e personale i pianeti vaicunta il luogo della dimora di Dio una delle dimore perché Dio ne ha diverse non entrerò nel merito di questo c'è la varietà non c'è l'unicità c'è unicità da un punto di vista spirituale tutto è un'unica sostanza ma ci sono le diverse forme come viene spiegato bene qui e di cui ne abbiamo parlato la volta scorsa gli alberi dei desideri si intende e chi non vorrebbe avere un albero dei desideri che in qualsiasi stagione tu puoi chiedere a quella pianta di ottenere un frutto quello che vuoi non c'è il frutto del mango il frutto delle mele il frutto del stavo dicendo fragole no le fragole non crescono sugli alberi il frutto delle pesche no tu cosa vuoi ti avvicina a questa pianta ti soddisfa i tuoi desideri e ti dà quello che chiedi in tutte le stagioni continuiamo la narrazione gli abitanti dei pianeti Vaikunta volano nelle loro aeronavi insieme con le loro compagne e con i loro canti glorificano eternamente le qualità e le attività del Signore che non hanno mai un carattere di cattivo augurio cantando le glorie del Signore non prestano attenzione nemmeno ai madavi in fiore profumati e carichi di nettare nonostante ci sia questo profumo nell'aria loro non sono interessati a odorare questo profumo per la propria gratificazione dei sensi ma continuano a glorificare il Signore nel mondo spirituale non c'è il desiderio per la propria gratificazione personale verso 18 quando il re dei calabroni canta su un tono acuto le glorie del Signore le tortore i cucù le gru i cia cravaca i cigni i pappagalli le pernici e i pavoni cessano il loro brusio tutti questi uccelli trascendentali sospendono il loro canto per ascoltare le glorie del Signore tutto è personale persino i calabroni glorificano il Signore con i loro canti e addirittura questi questo che sembra può sembrare un ronzio da parte del calabrone ma che è una glorificazione del Signore permette a uccelli che hanno dei canti molto più melodiosi di ascoltare queste glorificazioni dei calabroni non c'è differenza nel mondo spirituale tra le varie forme che sia una forma umana che sia una forma di una pianta che sia una forma di un volatile o di un animale così come la consideriamo noi tutti sono perfettamente coscienti della loro natura ovvero di essere anime spirituali eterne coscienti della loro natura eterna piena di conoscenze e di felicità e della loro natura di servitori del Signore verso 19 sebbene gli arbusti fioriti come il mandara il kunda il kurabaka l'utvala il ciampaka l'arna il punnaga il naga kesara il bakul il parigiat e il ciglio e scusate il ciglio emanino un profumo trascendentale sono sempre coscienti delle austerità compiute da Tulsi perché il Signore le accorda la sua preferenza e porta ghirlande fatte con le sue foglie Hare Krishna buonasera benvenuto Pierluigi gli abitanti di Vaikunta viaggiano in aeronavi fatte di lapislazzuli smeraldi e oro dove si affollano le loro compagne dai larghi fianchi e dal bel viso sorridente ma la loro allegria il loro fascino angelico non li stimola alla passione io direi senza speculare troppo di leggere parte della spiegazione di Shira Prabhupada su questo punto le persone che hanno una forma tra virgolette possiamo considerarla umana sebbene a quattro braccia su pianeti Vaikunta hanno le loro compagne e le loro compagne anzi è meglio che leggiamo la spiegazione di Prabhupada poi magari piccolo commento se è necessario è detto anche che le compagne degli abitanti di Vaikunta sono molto più belle di qualsiasi donna del mondo materiale anche di quelle che abitano sui pianeti superiori la bellezza di questo mondo così come lo consideriamo diciamo dei pianeti terrestri quelli intermedi di una donna è inferiore alla bellezza di una donna dei pianeti superiori i pianeti celesti ma le donne che vivono nel mondo spirituale Vaikunta che significa Vaikunta Vaikunta vuol dire ansietà Vaik è un suffisso negativo quindi un luogo dove non c'è ansietà quindi queste donne sono molto più belle delle più belle donne che diciamo rappresentano la bellezza celeste Hare Krishna Angelo benvenuto quindi riprendiamo è detto anche che le compagne delle abitanti di Vaikunta sono molto più belle di qualsiasi donna del mondo materiale anche di quelle che abitano sui pianeti superiori il nostro verso precisa che i larghi fianchi di una donna attirano gli uomini e stimolano la loro passione ma la caratteristica meravigliosa di Vaikunta è che nonostante i larghi fianchi e i volti sorridenti delle donne senza contare i loro ornamenti di smeraldo di altre gemme gli uomini sono così assorti nella coscienza di Krishna che non si sentono attratti dalla loro bellezza sublime ciò significa che i rapporti tra i due sessi sono piacevoli ma senza traccia di desiderio sessuale gli abitanti di Vaikunta conoscono un piacere molto superiore perciò considerano inutile il piacere sessuale come dice Bhagavad Gita per rinunciare a ciò che è inferiore bisogna gustare qualcosa di superiore non c'è altra possibilità quindi il piacere che gli abitanti di Vaikunta provano nella loro relazione con il Supremo è molto più elevato del piacere sessuale che è considerato il piacere più elevato di questo mondo materiale non sono interessati quindi hanno queste relazioni fra di loro ma non c'è passione non c'è desiderio sessuale vedo una domanda per Luigi ti chiedo solo scusa perché sto dando un'occhiata e in questo momento io continuerei la lettura vediamo anche che ora abbiamo fatto già 12 e 20 abbiamo un largo spazio e poi posso leggere la tua domanda per Luigi e vedere un po' se riesco a darti un orizzonte di senso allora continuiamo la lettura verso 21 le donne dei pianeti vaicunta sono belle come la dea della fortuna talvolta queste bellezze trascendentari che giocano con i fiori di loto e portano caviglieri tintinanti ai piedi puliscono i muri di marmo ornati a intervalli da bordi dorati per attirare su di sé la grazia del Signore Supremo nei loro giardini ai bordi di laghi divini dalle rive di corallo le dee della fortuna adorano un Signore offrendogli foglie di tulsi presentando le loro offerte al Signore esse possono vedere nell'acqua l'immagine riflessa dei loro bei volti col naso all'insù quei volti la cui bellezza sembra esaltata dai baci del Signore io per una questione di pudore personale eviterei di commentare questa cosa che le le dee della fortuna nel mondo spirituale hanno un un volto più raggiante dovuto ai baci del Signore perché nella mia condizione di anima condizionata condizione condizionata do alla parola bacio un'espressione che sicuramente non corrisponde a quella spirituale quindi preferirei evitare di commentare certo la relazione tra Dio e i Suoi devoti è una relazione d'amore ma qualcuno i grandi maestri consigliano che se non si è arrivati a un buon grado di comprensione spirituale e si è contaminati dall'idea della lussuria del mondo materiale è meglio evitare di commentare questi aspetti perché noi diamo al valore della sensualità un valore che non corrisponde al valore originale quindi scusatemi se preferisco non commentare questi aspetti ma la realtà del mondo spirituale è che la bellezza dei volti della Dea della Fortuna è accresciuta dai baci del Signore baci che non hanno nulla a che vedere con la sensualità di questo mondo verso successivo 23 è spiacevole vedere le persone sfortunate che discutono di argomenti che non meritano di essere ascoltati e che confondono l'intelligenza invece di impegnarsi nelle descrizioni di Vaikunta coloro che lasciano i discorsi che riguardano Vaikunta per volgersi verso argomenti materiali sono gettati nelle più profonde tenebre dell'ignoranza Brahmà continuò miei cari esseri celesti la forma umana è così importante che anche noi desideriamo ottenerla perché solo in questa forma umana si può raggiungere la perfetta conoscenza e la più alta verità spirituale se una persona che ha ottenuto questa nascita non arriva a comprendere il Signore Supremo e il suo regno significa che subisce pesantemente l'influenza dell'energia esterna qui ci sarebbe da fare un bel commento Brahmà che l'essere più elevato di questo universo la posizione più elevata di questo universo dice che persino lui desidera rinascere in una forma umana perché attraverso la forma umana si può raggiungere la perfetta conoscenza e la più alta verità spirituale in altre parole la posizione della forma umana è una posizione intermedia cerco di spiegarlo in breve perché vorrei andare avanti con la lettura è quella posizione che ci permette di non essere proprio così nelle condizioni della più totale ignoranza e sofferenza che possono essere considerate le forme di vita inferiori a quella umana ovvero le forme di vita animali di rettili di volatili e via dicendo vivono costantemente nella paura coloro che vivono nella condizione animale non credo che vi sto dicendo qualcosa di nuovo sono molto diciamo rare quelle forme di vita animale in cui tu non sei preda per qualcuno e anche nelle forme di vita animali quelli che sembrano le più forti faccio l'esempio delle tigri del leone provate a guardare un documentario quando il leone e la tigre sono diventati anziani e non hanno più quella forza di reagire quando vengono attaccati da altri animali come le iene ma anche in alcuni casi anche i bufali anche in alcuni casi i coccodrilli non c'è forma di vita animale dove non ci sia la condizione di essere preda e quindi si vive costantemente nella paura vivendone costantemente nella paura non si ha desiderio e possibilità della ricerca spirituale nelle forme di vita superiore invece i mondi celesti i mondi paradisiaci c'è una tale gratificazione dei sensi che non c'è il minimo desiderio di cercare un qualcosa di meglio di cercare la realizzazione spirituale questo è il motivo per cui Brahma sta dicendo che lui stesso desidera di nascere nella forma umana perché è l'unica che ha non solo condizioni negative quindi la paura di essere preda e neanche solo le condizioni positive quindi la vita nei pianeti celesti nei pianeti paradisiaci è in quella condizione intermedia che gli può permettere chiaro non è che lo fanno tutti ma la forma di vita umana è l'unica forma di vita che ci può permettere di cercare la realizzazione spirituale questo è il significato di questo verso anche se sarebbe più da approfondire spero di aver dato una diciamo un'infarinatura verso successivo 25 coloro che sperimentano trasformazioni fisiche sotto l'effetto dell'estasi e che respirano pesantemente e si coprono di sudore ascoltando le glorie del Signore sono elevati al regno di Dio anche se trascurano la meditazione e le altre austerità il regno di Dio si trova al di là di tutti gli universi materiali ed è desiderato da Brahma quindi da me perché sta parlando Brahma e dagli altri esseri celesti qui c'è una lunga spiegazione di Shida Prabhupada ma andiamo avanti quindi fino adesso Brahma ha descritto la situazione del mondo spirituale in questi ultimi versi ha in qualche modo tra virgolette criticato coloro che pur avendo una forma umana non si dedicano alla realizzazione spirituale e adesso comincia a spiegare agli esseri celesti che glielo hanno chiesto il motivo di questa oscurità siamo nel verso 26 così i grandi saggi Sanaka Sanatana Sanandana e Sanatkumara provarono una felicità senza precedenti nel raggiungere grazie alle loro pratiche yoga il regno di Vaikunta il mondo spirituale scoprirono che il cielo là era illuminato da aeroplani meravigliosamente ornati e guidati dai migliori devoti di Vaikunta e poterono constatare che questo mondo era governato dal Signore Supremo in persona perché Brahma sta descrivendo il mondo spirituale per dare la risposta agli esseri celesti che gli avevano fatto una domanda ovvero la ragione di questa oscurità che stava prendendo l'universo intero quindi descrive il mondo spirituale perché i suoi figli i suoi primi figli non generati da un'emissione di seme ma dalla sua mente stavano andando proprio a Vaikunta stavano andando nel mondo spirituale verso 27 dopo aver attraversato le prime sei porte della dimora del Signore Vaikunta puri senza provare troppa sorpresa alla vista di tutte le meraviglie che si offrivano ai loro occhi essi arrivarono alla settima porta dove videro due esseri della stessa età splendenti di luce armati di mazze e ornati di gioielli diamanti orecchini caschi stoffe e molti altri ornamenti preziosi ognuno dei due guardiani aveva quattro braccia dalla carnagione bluastra tra le quali scendevano ghirlande di fiori freschi che attiravano le api ebre le sopracciglia arcuate le narici contratte e gli occhi dai riflessi rossasti tradivano una certa agitazione perché tradivano una certa agitazione perché questi due compagni del Signore erano avevano un compito quello di essere guardiani alle porte di Vaikunta quindi come guardiani dovevano capire chi poteva entrare e chi non poteva entrare e vedendo quattro bambini perché ricordo che i Kumara avevano questa forma la forma di bambini di cinque anni e viaggiavano nudi quindi in qualche modo i guardiani di Vaikunta si erano preoccupati dice ma chi sono questi e perché vogliono entrare verso ventinove in qualunque luogo andassero i grandi saggi guidati da Sanaka avevano libro accesso per loro le nozioni di nostro e loro non esistevano fu dunque con menti aperte del tutto naturalmente che si accinsero a passare per la settima porta proprio come avevano già attraversato le prime sei che erano fatte d'oro e di diamanti questi quattro saggi sebbene avessero questa forma che per chi non avesse una grande conoscenza approfondita poteva sembrare la forma di bambini in realtà erano grandi saggi che erano andati al di là di tutte quelle che erano i legami con la materia verso 30 i quattro saggi bambini che erano vestiti solo dell'area circostante che bella che bella espressione per dire che erano nudi quindi quattro saggi bambini che erano vestiti solo dell'area circostante sembravano avere solo cinque anni sebbene in realtà fossero i più anziani di tutti gli esseri creati e avessero realizzato la loro vera identità erano anime liberate i quattro kumara questi che esternamente sembravano dei bambini che andavano in giro nudi ma quando i guardiani li videro impedirono loro il passaggio con le loro mazze mancando così di rispetto questi personaggi gloriosi che non meritavano un trattamento simile così con il loro comportamento si resero sgraditi al Signore leggo l'ultimo verso e poi per Luigi spero che tu abbia avuto abbastanza pazienza leggerò la tua domanda quindi verso 31 anche perché vediamo che ore abbiamo fatto 18 e 37 ok quindi verso 31 abbiamo detto quando i Kumara questi quattro bambini di cinque anni che erano le persone più qualificate per entrare a Vaikunta si videro sbarrare il passo dai due primi guardiani del palazzo di Shri Arī mentre altre divinità osservavano la scena furono presi improvvisamente dalla collera che fece diventare rossi i loro occhi tanto intenso era il desiderio di vedere il loro amato maestro Shri Arī il Signore Supremo mi fermo un attimo qua Hare Krishna allora fino adesso si è capita la situazione ovvero questi questi Kumara questi quattro fratelli nati che sono stati i primi esseri generati dalla mente di Brahmà che non ha bisogno di avere un'emissione di seme per avere dei figli perché lui ha un grande potere che gli è dato naturalmente dal Signore Supremo Brahmà non è il Signore Supremo è un'anima molto elevata che ha il compito di popolare l'universo e di creare quindi è chiamato il Demiurgo dell'universo i primi esseri che nascono dalla sua mente sono i Kumara e loro decidono proprio perché avevano già realizzato la verità assoluta sebbene nella forma impersonale questo è un dettaglio che lo mettiamo un attimo da parte sebbene avessero ottenuto la conoscenza della realtà spirituale avevano il desiderio di non essere legati alle cose materiali e decisero di mantenere quella forma di bambini ora il loro grande desiderio siccome ne avevano sentito molto parlare era quello di andare nel mondo spirituale e di avere a che fare quindi di interagire con l'essere supremo ma nella visione dei due guardiani di Vaikunta questi erano dei bambini che dovevano essere fermati non potevano entrare nel mondo spirituale questa è diciamo in larga linea la scena che vi dovete immaginare poi vediamo dopo la lettura della domanda di Pierluigi se possiamo continuare la nostra la nostra lettura perché si sta facendo molto interessante allora vediamo un po' Pierluigi dice scusa facendo un dialogo con una persona riguardo il non mangiare carne è venuta fuori questa domanda perché evitare di mangiare carne per evitare sofferenza e togliere la vita ad alcuni ortaggi potresti rispondere per piacere grazie allora Pierluigi anche se non è molto attinente con l'argomento di oggi e questa è una domanda che le persone che mangiano la carne fanno spesso ai vegetariani poi c'è anche Mauri che fa una domanda ok intanto Mauri cerco di dare una risposta concisa e riassuntiva a Pierluigi allora stavo dicendo che questo tipo di osservazione è un'osservazione che generalmente fanno tutti coloro che mangiano la carne dice voi ci diciamo redarguite perché noi uccidiamo ma anche voi uccidete e questa considerazione è molto corretta una prima risposta potrebbe dire che potrebbe essere che comunque noi ci dobbiamo nutrire non possiamo vivere d'aria e il concetto della imsa ovvero della non nuocere la non nocenza la non violenza è un concetto che non può essere reale in questo mondo un aforisma vedico dice jiva jivassia jivanam che ogni vita è vita per un'altra vita tutti noi che viviamo in questo mondo ci nutriamo ad escapito degli altri allora il concetto è siccome io comunque devo essere violento cerco di essere meno violento possibile io credo che tutti capiscano che prendere un coltello e tagliare una lattuga e prendere un coltello e tagliare una gola ad una capra non sia la stessa violenza è vero io sto uccidendo ma è un conto è uccidere una lattuga da cui poi potrà ricrescere potranno ricrescere altre foglie ma questo è un altro discorso è un conto tagliare la gola ad una capra la capra nel momento stesso in cui sta diventando cosciente che sta per essere uccisa comincia a dimenarsi cerca di reagire la lattuga sono due forme di violenza indubbiamente ma non sono lo stesso tipo di violenza quindi io devo essere violente ogni vita è vita per un'altra vita io mi devo nutrire uccidendo ma cerco di uccidere creando meno violenza possibile questa è solo la prima risposta ma la risposta più vera è legata alla condizione di offrire il cibo a Dio questa è la vera non violenza per dirla in breve Pierluigi se io questa insalata che ho ucciso mettiamola così la preparo la lavo e la preparo da offrire a Krishna innanzitutto non prendo le reazioni del mio atto perché io sto andando direttamente alla fonte con amore e devozione o anche se non c'è amore e devozione con un certo senso di comprensione di come funzionano le cose io sto uccidendo ma quell'essere vivente perché anche le piante sono jiva anche le piante sono esseri viventi quell'essere vivente sta per essere offerto a Krishna quindi ne avrà beneficio concludo e spero di averti dato delle nozioni diciamo che tu possa considerare importanti non solo nel momento stesso in cui io uccido ma offro a Krishna sono libero dalle reazioni se hai la Bhagavad Gita Pierluigi leggiti il terzo capitolo cioè scusa il terzo capitolo che ha il titolo Karma Yoga che spiega proprio questo punto quindi non solo offro a questa pianta questa anima che è in questa forma di lattuga di essere messa al servizio di Dio e così miglioro la sua condizione tutto ciò che viene a contatto con Dio si purifica quindi quel jiva che ha quella forma di lattuga si purificherà e potrà fare un salto evolutivo e addirittura prendere una forma di vita umana e diventare una devota o un devoto del Signore mentre se io uccido un animale che ha per Karma un lasso di tempo per cui deve vivere quella vita se io mi metto nella condizione di interrompergli la sua evoluzione nella scala delle forme di vita allora quell'essere che sia una mucca che sia un coniglio che sia un pollo dovrà rinascere ancora in quella forma quindi io da una parte blocco l'avanzamento evolutivo di un essere vivente di un jiva di un atma e dall'altra invece favorisco la possibilità di quelli di quei vegetali di fare un avanzamento verso la comprensione spirituale ecco più o meno questo è quello che mi sentivo di dirti ora spero di esserti stato d'aiuto e andiamo a vedere il commento allora intanto Joël dice che il sistema nervoso delle piante è meno sviluppato degli esseri a sangue caldo e questo aiuta spero Pierluigi nella risposta e grazie Joël per questo diciamo intervento per questo non mi sfugge il termine ma ce l'ho sulla punta della lingua comunque hai capito di cosa stavo parlando in questa integrazione ecco grazie cioè grazie a chi grazie alla memoria che ogni tanto mi ritorna allora Mauri invece dice detto se non erro Prabhu che ci sono 400.000 forme umane nelle 8.400.000 forme di vita e chiedo ma tutte le forme umane possono avanzare? Deva e Asura sono umane? se si avanzano nella forma umana? interessante questa domanda come sempre Mauri entra nei dettagli allora è vero sì i Veda ci dicono che ci sono 8.400.000 forme tra forme minerali forme acquatiche forme di insetti forme di volatili e via dicendo e tra queste 400.000 sono forme umane io ho sentito che di queste 400.000 forme umane 40.000 sono forme umane civilizzate 360.000 sono forme di vita umana allo stato brado ovvero diciamo che ne so possiamo ricordarci di quelli che potevano essere considerati gli aborigeni australiani hanno una forma umana ma ha uno stato quasi brado senza offesa per loro però questa è la realtà e sono forme di vita che non sono tanto legate a delle razze anch'io ho fatto una domanda su questo punto e mi hanno detto un maestro mi ha detto che sono 400.000 forme di vita che riguardano l'aspetto coscienziale tu pensa quanta varietà creano i treguna per chi non lo sai i treguna sono quelli che sono i poteri di questo mondo quelli che ci governano e ci influenzano quindi corretto 400.000 forme di vita umana 360.000 allo stato non civilizzato 40.000 allo stato civilizzato tutte le forme umane possono avanzare indubbiamente tutte le forme umane hanno questa prerogativa e se falliscono in questa possibilità poi diciamo il loro futuro non sarà così roseo noi dobbiamo capire quanto è importante è il fatto che abbiamo una forma umana perché è l'unica forma di vita che ci permette di avanzare nella vita spirituale naturalmente così come ogni essere umano ha la possibilità o se ne priva di avanzare nella vita spirituale questo vale anche per altre altre forme di vita che hanno dell'umano ma che sono superiori agli esseri umani ideva prima io ho detto giustamente parlando in generale che coloro che vivono nella condizione paradisiaca non hanno lo stimolo a cercare la realizzazione spirituale perché stanno già bene come chi di voi conosce la Bhagavad Gita dice che ci sono quattro tipo di persone che si abbandonano a lui che lo cercano e che lo adorano e i primi elencati sono coloro che soffrono le persone che hanno una buona condizione materiale che hanno schei che hanno che possono vivere tutta la loro vita andando in crociera ai Caraibi o in qualche isola coraldina e che vivono diciamo nel benessere hanno meno opportunità non è che gli è negata ma generalmente hanno meno opportunità di dedicarsi alla vita spirituale dice che mi interessa a me io sto tanto bene qua mentre gli uomini che nella loro condizione vivono tra il piacere e la sofferenza che vivono tra le gioie e tra i dolori tra il caldo e il freddo vivono nella dualità e vivono la condizione della sofferenza ma anche della gioia loro hanno più diciamo lo stimolo per cercare la realizzazione spirituale questo è quello che spiega la Prabhupada che ci spiegano i Deva ciò nonostante come dici tu Deva e Asura sono umane su questo non ti posso dare una risposta certa io personalmente credo di sì però non prendere come oro colato quello che ti sto dicendo allora se si avanzano nella forma umana questa la capisco un po' meno quello che so per certo è che è anche qualcosa che viene definito come reale nelle scritture è che i Deva soprattutto in quest'era in Kali Yuga sono lì in fila per rinascere come esseri umani perché soprattutto in Kali Yuga la possibilità della realizzazione spirituale è più accessibile ok vediamo che ore abbiamo fatto 54 abbiamo ancora 6 minuti e dimmi Mauri se sono riuscito a darti una una risposta alle tue considerazioni e domande allora Francesco Mariano cosa succede in caso di sacrifici animali a Dio alla giva dell'animale allora Francesco io ho parlato di questo in maniera più dettagliata adesso non ricordo in quale puntata di queste narrazioni vediche proprio se non vado male con la memoria a una domanda che mi era stata fatta da Michelle che riguarda il sacrificio Rajasuya sacrificio in cui viene offerto un cavallo nel fuoco del sacrificio allora oggi questi Yagya tra virgolette sacrifici di animali in Kali Yuga non sono più permessi perché perché ti dico cercando di essere più riassuntivo possibile le motivazioni di questi sacrifici non erano sacrifici fatti per poi godere dell'animale no erano soltanto per mettere in luce la potenza dei sacrifici e la potenza degli inni vedici in altre parole il cavallo che veniva sacrificato o altri animali che venivano sacrificati grazie alla potenza dei mantra che erano recitati in maniera corretta da coloro che avevano in quanto brahmana in quanto sacerdoti questo potere questo cavallo prendeva una forma di vita giovane quindi lasciava il suo corpo da cavallo anziano e prendeva un corpo giovane da pulletro questo era il il senso del sacrificio mostrare a la popolazione che questi sacrifici avevano un un potere che questi mantra avevano un potere non c'era nessun'altra ragione per cui questi sacrifici venivano fatti quindi la tua domanda era cosa succede in caso di sacrifici animali a dio alla giva dell'animale la giva dell'animale prende subito un altro corpo più giovane e avendo fatto parte di un sacrificio che aveva come ultimo scopo l'idea di soddisfare dio fa un avanzamento spirituale tutto ciò che viene a contatto con dio da la possibilità a chi viene a contatto con dio di migliorare la sua condizione questo è il punto che noi dobbiamo capire per questo è molto valido cercare di offrire a dio il cibo perché tutti quegli ortaggi generalmente per i vegetariani tutti quei legumi quei cereali che noi cuciniamo per dio tutte le piante che hanno fornito quella nutrimento quel cibo fanno avanzamento spirituale e che dire di un animale che fa parte di un sacrificio avanzamento spirituale ok mi sembra che qualcun altro stava dicendo qualcosa mauri allora prabus se le asura sono forme umane ed è anche detto che i loro pianeti sono superiori al nostro mi chiedo come fa un asura in quanto oppositore e il grafondaio ad avanzare essendo addirittura superiore all'umano l'asura ha un compito è una domanda mauri che alle 18.58 diventa un po' improbabile riuscire a rispondere in maniera diciamo risolutiva quindi mi prendo la responsabilità di entrare nel merito di questo nella prossima puntata nel prossimo episodio perché dirtelo in tre parole non darebbe il senso intanto premettimi che io ho considerato ma con il beneficio del dubbio che anche le forme di vita assura sono forme di vita umana ma l'ho messo tra virgolette con il punto di domanda a questo punto come è successo la volta scorsa andrò da chi di dovere da quei devoti che io considero essere i miei referenti per dare una risposta più chiara a questo e quindi ti rimando alla prossima al prossimo episodio va bene grazie Hare Krishna abbiamo non abbiamo più tempo abbiamo parlato di tante cose spero di essere riuscito a darvi qualche nozione che possa migliorare la vostra condizione materiale e soprattutto spirituale questo è il compito che io cerco di portare avanti lo farò con tutti i pro e i contro che mi porto dietro perché non crediate che anch'io non sia pronto a fare delle domande e delle considerazioni su qualcosa che non mi è chiaro quindi l'unica cosa che posso fare è porvi proprio come un senso di offerta la conoscenza che ho acquisito nel corso del tempo ma mettetevi certi al 100% che ci sono persone che la sanno molto più lunga di me e che sono proprio quelle persone a cui io mi rivolgo per darvi quelle risposte che a volte non riesco a darvi perché di domande me ne faccio anch'io Hare Krishna grazie a tutti grazie Claudio grazie Rita grazie Joelle grazie a tutti voi che mi state mandando questi bellissimi messaggi e ci vediamo lunedì prossimo per chi vuole solita ora solito canale Hare Krishna Hare Krishna buona serata a tutti